Occhio a non confondere perfezionismo ed eccellenza. Il perfezionismo è un qualcosa che dobbiamo eliminare, perché ci blocca, ci tiene incastrati, non ci fa andare avanti. La ricerca dell'eccellenza invece è qualcosa di positivo ed è un qualcosa che non termina mai, perché se il perfezionismo è un'idea statica, ferma, la ricerca dell'eccellenza è l'idea di migliorarci continuamente.